Un nuovo tecnico, si tratta del campione d'Italia Fulvio Colini, arrivato dalla Luparense. Nuovi giocatori e tutta l'ambizione di ricoprire le vette più alte della classifica. Il Pescara Calcio 5 presenta oggi il suo staff al completo. A parlare è il patron Danilo Iannascoli. Era il momento di cambiare e dovevamo cambiare, infatti abbiamo cambiato tutto il gruppo, quasi tutti i giocatori, abbiamo tenuto soltanto tre giocatori in organico e poi abbiamo, insieme al nuovo mister, acquistato giocatori funzionali al suo progetto. Questo è un campionato molto difficile, ogni anno cambiano le regole. Quest'anno c'è una nuova regola che più di sei giocatori stranieri, non italiani, non possono essere schierati in campo. Perciò è chiaro che questo rende ancora più complicato l'allestimento di una squadra per poter puntare ai vertici della classifica. Questa è una squadra importante della regione più importante, secondo me, insieme ovviamente al Veneto del Calcio 5 nazionale. Di casa sì, soprattutto perché anche da avversario, quando allenavo il Montesilvano, a Pescara ho sempre ricevuto trattamenti eccezionali e anche dopo Montesilvano l'unica piazza dove ho ricevuto applausi incondizionati, nel senso che allenavo un'altra squadra, è stato Pescara. Tanti volti nuovi in campo, ma anche una conferma, anzi due, quella di Capitano Morgado e del brasiliano Douglas Nicolodi. È il quinto anno che sto con Danilo di Anascoli, con la famiglia Anascoli, abbiamo già fatto una strada, fino ad oggi, buona, secondo me, con tante esperienze, per arrivare a un giorno a vincere qualcosa, che è quello che aspettiamo tutti. a un giocatore che dice che non pensa di vincere qualcosa, non può giocare in Serie A. Perciò noi pensiamo e allo stesso tempo lavoriamo.